Siamo in compagnia della dottoressa Antonietta Caruso che oggi è qui con noi per promuovere un evento che si trarà il 30 dicembre prossimo, un evento davvero straordinario. Dottoressa ce ne vuole parlare innanzitutto? Sarà la presentazione di un libro dal titolo Attorno Vracir di Nicolino Cannarsa che ci racconterà tutto il folclore e le tradizioni termolesi. È un libro che si è avviato già diversi anni fa quando l'autore è venuto da me a chiedermi di sostenerlo, di aiutarlo tecnicamente a realizzare questo volume. Io ho avuto qualche incertezza perché veramente ho capito che si tratta di una lunga ricerca che l'autore ha compiuto da diversi anni e che voleva raccogliere in un compendio, in un libro che comprendesse tutto praticamente, tutto quello che era il folclore, tutto quello che sono le tradizioni di Termoli, a partire dalla nascita al matrimonio, alla morte, tutta la vita dell'uomo nelle tradizioni. Ha affrontato anche il tema del lavoro che poi a Termoli si esplica soprattutto nella pesca, il tema delle credenze, il tema delle superstizioni o dove c'è un misto di sacro e profano, insomma tutte cose che mancavano nella nostra realtà, catalogate così a livello sistematico e scientifico come ha fatto l'autore. Devo dire che veramente sono rimasta molto contenta e soddisfatta di questo lavoro perché mancava a Termoli uno studio di questo genere. Mentre noi abbiamo libri sulla cattedrale, libri sul castello, conosciamo la realtà urbanistica attraverso il piano di recupero, abbiamo fatto tanti studi su tutti questi beni culturali della città, però mancavano proprio i beni demo-etno-antropologici che invece l'autore ha avuto il merito di raccogliere. Ha raccolto sistematicamente tutte queste tradizioni e soprattutto ha posto l'attenzione sui canti, dove lui stesso ha dato un contributo personalissimo perché li ha rivisitati e li ha corredati tutti di uno spartito. Quindi un lavoro sicuramente è in comio che mancava nella nostra città. Bene, Nino Cannassa, l'autore di questo libro di cui ci ha parlato la dottoressa, Attur Nuvrasir, un pozzo di idee come sempre, Nicolino Cannassa, un lavoro davvero imponente quello che stai proponendo per farci conoscere noi. Attur Nuvrasir in effetti è stato un lavoro che mi ha dato tanta soddisfazione ed è partito dal fatto che c'è sempre stato il desiderio di mettere in questo compendio tutte le testimonianze che ho raccolto nel tempo con il mio vecchio geloso che poi ho trasportato nelle cassette e dalle cassette sui cd di vecchi marinai, di pescatori, di gente comune e mi sembrava quasi doveroso per il rispetto del lavoro fatto e della gente intervistata fare in modo che tutte queste testimonianze venissero poi messe in questo compendio per darla a futura memoria. Quest'idea comunque mi è venuta facendo i progetti nelle scuole con i bambini in cui c'è stata tanta curiosità da parte loro, erano affamati di sapere queste cose. Allora dico perché non fare, come già fatto con l'altro libro, La favola racconta la storia, perché non mettere in un libro anche le trascrizioni musicali di canti perché si conosce a termo l'ubat luce, ci ripiri piccole e quant'altro, ma tanti altri canti che fanno parte della storia veramente della nostra comunità, non trasmetterli in modo tale che poi nel tempo, visto che magari tanti canti non vengono più cantati, non vengono ripresi da questo testo? Nicolino, questo è un libro di 400 e passa pagine, per fare una ricerca di questo genere quanto tempo ci hai impiegato? Io ricordo che erano gli anni 60 quando ho iniziato a fare queste ricerche e ultimamente mi sono fermato a recuperarle e ci ho lavorato per circa tre anni e ho sognato di fare questo lungo viaggio attraverso un viaggio immaginario con il treno della memoria e in ogni stazione che mi fermava è un argomento, praticamente sono dei pezzi di storia in cui praticamente si parla del ciclo della vita dell'uomo e il ciclo dell'anno, dove magari si possa anche sfatare il fatto che a livello del fatto che Termoli abbia una vocazione marinata, siamo d'accordo, ma anche ci sta un pezzo del mondo contadino e quindi fare questo viaggio è come se un vecchio mi abbia lasciato una valigia di questi ricordi dicendomi Nicolino guarda che il giovane cammina velocemente, ma il vecchio sa la strada. Eccovi insieme, dobbiamo dire una cosa, in un'era tecnologica dove tutto ormai si fa tramite internet e quant'altro, sentire parlare di Ouvrashir che sarebbe stato il nostro Whatsapp, il nostro Facebook con le famiglie, davvero porta a qualcosa di affascinante? Io credo che viviamo in un mondo ormai globalizzato in cui rischiamo di perdere la nostra identità. prima la trasmissione era orale di padri in figlio e quindi i figli ereditavano quello in cui credevano i padri, ma adesso non avviene più così. Il mondo ci ha abituato a internet e non abbiamo più le nostre peculiarità e quindi è importante valorizzarle proprio per renderci unici al mondo, perché non siamo tutti uguali. Quindi è importante la trasmissione orale, non esiste più, quindi la trasmissione attraverso tutti i mezzi tecnologici, ma il libro resta sempre quello privilegiato. Ebbè, che cosa dire? Io ricordo quando ero bambino e come me e tanti miei coetanei e i nostri padri prima che ci assattavano a vicino Ouvrashir alla sera, quello era il modo per riscaldarsi. Il nostro grande fratello. Esatto, nel calore proprio della famiglia, quando addirittura nel preciele per profumare la casa si mettevano pezzi di arancia, di mandarina e lì si raccontava la quotidianità, si raccontava il lavoro, si raccontava a scuola, chi ci andava a scuola. Quindi c'era, alla fine c'era la preghiera e quindi Attur Nuvrashir significa tutto e in questo compente, in questo libro c'è tutto. Grazie.